Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 11 dicembre. Ariete portentoso il trigono luna-urano, giornata perfetta per voltare pagina in amore, mandando a farsi friggere una persona dalle intenzioni poco chiare. Il cuore è strattonato tra passato e futuro, ma sapete di valere e di meritare il meglio. Fieri impianti, toro, la luna in orbita fastidiosa vi dà del filo da torcere, rendendovi instabili e requieti. Per non smarrire la bussola, appellatevi all'innato buonsenso. Oggetti a cui tenete si nascondono per il semplice gusto di farvi un dispetto? Restate calmi. Gemelli, meglio di così non potrebbe andare. Coccolatissimi dal trigono luna-urano, risolvete con un colpo di genio questioni complicate. Il lavoro numero uno della giornata. Nuovi ingaggi per chi è senza, sorprese intriganti per gli occupati. Cancro, qualche rimpianto per una persona che voi stessi avevate allontanato o semplicemente per il primo bacio, il primo abbraccio, per quello che eravate. L'impazienza è un modus operandi un po' dispersivo, potrebbero andare a discapito del risultato. Leone, confortata da urano e mercurio, la luna nel segno mantiene le sue progresse. Aiuti providenziali, idee geniali, cambiamenti repentini positivi. La fortuna è online. Informazioni preziose, idee vincenti per il lavoro, le troverete in internet. Navigate. Vergine, muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni nel lavoro. Agendo di impulso, potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e preservate i vostri spazi. Bilancia, la giornata è perfetta per chi come voi ha bisogno di contatti, di comunicazioni e di condividere con gli altri gli interessi, opinioni, svaghi. Vi verranno offerte belle occasioni per fare un tuffo salutare fuori dalla routine e per conoscenze speciali. Scorpione, la luna in leone alimenta l'ambizione, tuttavia non è il caso di fare un passo troppo lungo, magari soltanto per dimostrare di cosa siete capaci. Spese esagerate per le vacanze o un viaggio che, oltretutto, potrebbero non avere la riuscita desiderata. Sagittario, complice la luna in leone, siete pronti per imprese coraggiose, un viaggio avventuroso, un affare con l'estero, una dichiarazione amorosa, aiuti e consensi in società, grinta indispensabile per arraffare quanto di meglio la giornata può offrire. Capricorno, difficoltosa la giornata per il lavoro, se avete un segreto più che sulla buona sorte, puntate sulla prudenza. Un collega ha un fiuto da segugio. Se mancate il bersaglio, non perdete fiducia e concentrazione. Presto passerà un altro treno. Acquario, come di consueto, la luna in leone vi crea una serie di fastidiosi intoppi, specialmente se avete impegni mondani e morite dalla voglia di farvi notare. Gesti azzardati, impennate di orgoglio, costrizioni e vincoli difficili da accettare. Pesci giornata a scialba, senza picchi di alcun genere, questioni burocratiche che vi costringono a fare chilometri di code, voglia di essere altrove. Dolce e amaro, ricordare un ex perduto per vari motivi. Ma con il trascorrere del tempo, l'immagine sbiadisce. Grazie. Grazie.